Siamo qua con il Presidente TV, se ci può raccontare da dove nasce questo accordo per questo fantastico pullman? L'idea nasce l'anno scorso, ci abbiamo lavorato, abbiamo incontrato la dirigenza, in particolare il dottor Gardini. L'idea parte da, dico la verità, dal nostro consulente per la comunicazione Tavellini, dal mio vicepresidente Torini, che come dire notoriamente sono molto vicini all'ambiente. Noi abbiamo visto una grande opportunità in questa operazione, primo perché per noi è un'attività commerciale, secondo perché grazie alla collaborazione e al Traino, che è al marchio dell'Ellas, abbiamo avuto dalla società l'opportunità di poter fare incontri con gli studenti delle scuole e anche uno spot che serviranno ad incentivare le persone ad utilizzare il mezzo pubblico che sappiamo che è un'attività assolutamente meritoria. Anche dal punto di vista territoriale è un binomio importante a TV dell'Ellas-Verona, realtà importanti di Verona, della nostra città? Assolutamente sì, anche perché poi tra l'altro io personalmente sono un po' legato alla storia recente dell'Ellas perché io sono arrivato quando è arrivato Mandorlini, in situazioni entrambi piuttosto difficili, adesso mi sembra che tutti siamo in Serie A in lotta per i vertici, quindi questo mi fa piacere, sia per l'Ellas che per la TV. Quindi speriamo che questo viaggio insieme sia ancora lungo e magari ancora in Serie A con tante soddisfazioni? Io ci credo, anche perché l'accordo che abbiamo fatto è proiettato su otto anni, quindi io credo e spero che fra otto anni saremo ancora tutti in Serie A. Le ringrazio, Mogel.